Carissimi calabrettani, buonasera a tutti voi. Voglio ringraziarvi per avermi accolto in questa magnifica piazza. Mi avete fatta sentire a casa, nella consapevolezza che Acquaglietta e Calabritto sono una cosa sola. Ho sentito il vostro calore, il vostro interesse per il nostro gruppo, unito e ben variegato. È la prima volta che tanti giovani, tutti insieme, partecipano alla competizione elettorale amministrativa ed è per questo che io vorrei che voi ci metteste la prova. Il 5 giugno vi invito a votare noi la lista numero 3. Noi saremo attenti alle vostre esigenze, ai vostri bisogni e alle vostre richieste. Sentiamo forte il senso dell'appartenenza al nostro Paese, dal quale non ci vorremmo mai distaccare. Se tutti insieme metteremo il nostro impegno, pensando alle sorti dell'intera comunità e non solo a quella di pochi, riusciremo a fare nostre le vostre ragioni e ad affrontare e risolvere i problemi del nostro Paese. Puntate su di noi, non ve ne pentirete. Vi abbraccio, forza Calabritto e forza Qualietta!